Una spillatrice, qualcosa per fermare l'emorragia Cristiano dove cazzo sei per ti curo? Almeno ti mollo una curettina che devo fare Attenti quelli che esplodono Arriva il braccio Ma adesso Brian Natch Si è automutato perché sapeva No non si è automutato, sta parlando Oh chi è che mi spara? Brian Vedete che qua c'è qualcosa C'è una bella armariola là comunque Ma che cazzo state facendo? Dove è andato Cristiano? Dai scemette Su Si è vero bisogna esplorare Però quello è mezzo morto Sono fiero di noi Il silenzio è d'oro Che bello Madonna Era l'obiettivo da sbloccare No l'obiettivo della partita Quello di non allertare Le mignotte là Che cosa il cazzo sta dicendo? Maronne Che belle Allora Carte corruzione Minchia Ci fanno il culo Quadrato Allora Aspetta Borsa da pronto soccorso 40% efficace Allora Metto questa Perché non abbiamo sentito Quello che hanno detto Praticamente Il trucco è quello Il tempo Ah eccola qua Il dottor Rogers Dove sono? Ma non è che abbiamo tolto Qualche impostazione Possibile Voi vedete che sto indicando Sulla cassa Ma allora c'è qualcosa Che non va Allora Se compro il medikit Mi sa che non posso comprare Il potenziamento Di squadra Quindi dovete prenderlo voi E' l'altro Va bene Va bene dai Ci sono 20 minuti Ma che sono Mostri delle palluti Questi qua Ma no Non si vede niente Dove dobbiamo andare Dove dobbiamo andare Trovo il contenitore Del campione No Ma che è andato Qui che c'è? Qui ci sono munizioni Ricordatevi che avete Il corpo a corpo a corpo letale Che ho messo la carta L'altra volta Quindi vi conviene Non spiegare proiettori E' stato sbagliato Attento Attento di nuovo Eh lanciamogli Qua 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 Fallo venire Che ci sono queste cose Sparatevi un po' Ma non viene Sto pezzo di merda Quasi morto Vabbè dai È morto È morto senza È morto Esplosione È stato Impressionante Qualcosa Sta arrivando qualcun altro Eccolo qua 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 dentro Visto? Ah Eccolo Qua sopra Non so cosa cazzo sta Cosa cazzo sta facendo Fatelo venire di qua No c'è un altro qua dietro Attenzione Cazzo sta facendo Granata in arrivo Attenzione Come se non dovessi Sì Se già abbastanza La va una debolezza Si indebolisce Ok andato Ok andato Questo C'è un altro E proseguiamo Venite venite Inutile che stiamo qua A buttare proiettili Andiamo avanti Aspetta c'è questo qua Non lo so Eh prendila Prendila Ah qui c'è Per curarsi Curatevi Christian curati Prendila Prendila Che se c'è qualche altro boss Lo spacchiamo E infatti andiamo Andiamo Dai Però non correte Che ci spompiamo Se no Eccolo qua Sei in pausa Siamo arrivati Siamo ancora vivi Incredibile Siamo fottutamente vivi Cioè Comunque Dai Voglio mettere l'acqua sul fuoco È rimasto fuori Con una neccia Oh e chiudi Cazzo Brian Ci stava facendo ammazzare Maronna A voglia Ci facciamo pure l'atto 3 Mai Con le carte A voglia Dai Questo è l'ultimo Dell'atto 2 Senti Prima c'erano 3000 carte Corruzione Ma alla fine Non era tanto difficile Allora Cosa posso prendere Questo Oh e dai Allora io compro Salute di squadra Poi compro No basta Ho tutto a posto Compro un altro Medikit Così non ho due su due E mi curo Cioè Christian Ma te ne stai già andando Ma aspetta Aspetta Ma infatti è Christian che se ne è scappato Qua qua fuori Bellissima Gina Che muove La mazza Ma non prende niente Dobbiamo eliminare Queste talpe Prima di lasciarvi entrare Sì sì Infatti sto andando Di là a sinistra Eccole Una là sotto La vedete? Che schifo Va bene dai Le reggiamo Le stiamo uniti Attenzione Attenzione dietro Tutto bene Facciamo il giro largo Venite 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 da qua Facciamo il giro largo E poi ci centriamo Non è ancora sicuro Eccola qua un'altra Siete pronti? Siete pronti? Ma che cazzo è successo? No vabbè Vai vai alzate Uno mi alza me L'altro lo alza me Ma che fate Tutte e due Ma che cazzo è? Aiuto Vedi se sta in piedi Grazie Ok L'abbiamo cagata Perché abbiamo agito male Eccolo qua Sinistra Morta Morta Guarda guarda che c'è là Ma quanti cazzo sono? Aspetta 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 Guarda dove stai spara Non sparare sulla croce rossa Allora Quello là sopra Aspetta 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 aspetta�e Non lo permesso Non lo permesso Giusto L'ultimo supporto Ok grazie Sono a posto Aspetta che vi mollo una curettina Ben fatto Non c'è tempo per festeggiare Grazie doc Mannaggia mi ha fatto cagare sta merda Mi aspettavo là Nell'erbaccio Era nascosto Aspetta Ma che sei morto Gina che c'è a me da vita Uno è là sotto E là sotto la vedete Ma non è che Sai cosa serviva Eccole qua tutte e due Serviva il fucile alla cecchina No perché se l'ammazzi con l'headshot Non fa Non allerta nessuno Se Se proprio devo Meglio che lo faccia subito Ma va Mi fa ancora Allora Ma vaffanze Mi hanno massacrato Mi sto mettendo Mi sono riuscito Anche a entrare E fa dead Vabbè va Sono morto Aspettate che sta arrivando Aspettate che sta arrivando Sotto a meraviglia Diamoci da parte Ehi Allora Quanto sangue Non è più del sol Questa faccia Questa faccia dice grazie L'avrà una debolezza Eh ma non potete stare là dentro Vi spaccano Tornatela fuori e mostrategli Di che pasta siete Perché non avevamo più vite Quindi ora si rinizia Da capo con le carte E con le armi Che scarse No Ricominciamo sempre questo livello Ma senza le stesse carte E le stesse armi Perché Ma non sono riuscito A entrare Neanche là dentro Perché mi hanno circondato Non riuscivo mai a muovere Ho il presentimento Che dobbiamo Vabbè Quelli più facili Però poi Forse ci conviene Scappare Verso la chiesa Non lo so Non so neanche Se ci riusciamo Non so neanche Non so neanche mi sconnesso dal server riconnettere aspetta ho fatto ricon riconnettere ah si però siamo tutti da Christian non sbaglio a parte Gina però aspetta io posso selezionare qua o no no non la posso fare perché ti hanno bannato a vita dal gioco non viene pensa quanto siamo scatti che già moriamo a questo livello anche se alcune volte questo gioco sembra permissivo alcune volte no non si capisce cioè ci ha mollato tutti quei nemici in una botta non si capiva da dove fosse da dove fosse o no Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Crea partita. No, basta che poi premi crea partita. Perché devi cambiare il titolo oltre che lo devi sbloccare. Ah, ma si sentiva tipo un risucchio. È meglio se vengo. Minchia qua, guarda che c'è. Ok, sono per esempio puoi entro. Io sta mitraglietta ma non mi piace. Non mi è più ginko sarà. È una scimmia. Che stai facendo? Sì, turbo bomba. Vabbè, prendo il coso per gli animali velocemente e basta, ho finito i soldi. No, non mi sapevo. Sicuro. Che cazzo mi ha sparato? Oh merda! Colpa mia? Venite, ne accette. Andiamo da destra verso sinistra. Non lo so. È per non farlo uguale. Cosa pensi di fare esattamente? Le cose si mettono male. Dobbiamo eliminare in fretta quelle tappe. Piazza, sta sbordando. Oh, qua sopra, qua sopra. Brava Gina, brava. Brava Gina. Ok C'è qualcosa qua nella chiesa A parte la safe house Ah c'è uno smerdatore Eh ma gliel'ho detto prima C'è Ah eccolo No questo Attento attento Vai l'ho ammazzato L'ho ammazzato Che state facendo Non avete finito Quindi Sono stata peggio Quindi C'è un fucile da cecchino qua Questo qua è il Barrett Potremmo provare A cecchinare Ma sentite che non funziona È per me Porta Non sei mia amica Ricarico 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 Mi piace sto fucile Non è ancora sicuro Eh aspetta Si usalo Brian Se no aspetta ti mollo una corretta io Però ti curo poco Ok Questa è andata Ora prendete l'altra Chi va a prendere l'altra Ah eccola qua E' qua sotto E' qua sotto Fermi Fermi La prendo io Ma cazzo Non muore E' qua dentro 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 Ma C'è Christian a terra Niente Dobbiamo Possiamo andare No 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 Braccio 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 Ci siete Venite un attimo qua Riuniamoci C'è un turbo bomba Una turbo bomba Madonna Xfights Vieni qua un attimo Vabbè ti stai curando là Un altro Un altro E' un cagagazzo Sto coso Venite 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 Preso Quello è andato Venite venite dentro Venite dentro Fu a tuo amico Oh Occhio alla mira Può capitale Mi sembra che ci siamo Però sento dei passi Molto pesanti Dov'è Sì ma poco Dove sei Fermo Prova a cambiare Armagino Che proiettili Ti servono Che magari A me non servono Ah E io quelli sto usando Al momento L'RPK Come cazzo si chiamano E ne ho pure pochi Io quasi quasi Ora mi metto il fucile A precisione Ah quindi Hai cambiato Arm Hai cambiato Arm E andate a prendere L'altro Uno che va Un coraggioso Non possiamo aprire La porta Mentre ci sono ancora Degli infestati In giro Entriamo dentro Entriamo dentro Arrivano Porca puttana Lancio il tubo Bomba Andato C'è l'altro Eccolo qua Ok Esploso Grazie mille Dell'aiuto Oh Oh Piacere Oh Non eravate in gita No No Ci ha mandato il generale Obiettivo 8 o 2 Un altro obiettivo Di proporzioni bibliche Sì pure a me L'ha dato Potrebbe essere Una spiegazione Ah Bastava che andassi da giro Ah Sei sempre a disposizione Buono a sapersi Ah no Tu ci fai le pompette Che stai dicendo Gino Non si capisce più niente Ma che ti sei fumato Gino Allora Vediamo se mi posso Comprare qualcosa Sì posso comprarmi qualcosa Vestitino Sono infine Eh ma vabbè Ma saranno Infine Ma prima o poi Finiscono le cose No Da sbloccare Pezzo Casa del K O Vediamo Ma cazzo Avete fatto partire Minchia Ma 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 Allora Io Può essere Vabbè Mi devo prendere per forza Il medico Perché si descarsa Però scusa Pure Brian L'ha finito da morto Lo ricordo male Io mi Mi ricordo Che pure Brian L'ha fatto da morto Fammi scegliere tre carte Va Ok Sono Prento Prento Eh sì Perché è un altro livello Ancora Allora Dividiamoci la tipologia Voi che cosa state prendendo Vabbè Quello sì L'unica cosa Che gli serve La sua È una cassa di legno Mai state Alla villa Bella scalata La residenza Billi Oltre Fatti Sì Meglio lui Che io Anche se sapevo Io ho Di base La mitraglietta Quindi se voi Avete quelle armi Mi tengo questa Allora I quattro proiettili Per intenderci Il fucile da cecchino Ce l'ha qualcuno Vabbè tu Io no Vabbè È quasi One shot Dai lo prendo io Il fucile da cecchino Se volete prendervi La mitraglietta Prendetela Non trovo se c'è Qualche potenziamento Anche se non so Se è È proprio Indica Oh Che fate Ma che necce Guarda Oddio Questo non è Un fucile da cecchino Questo è Un fucile Sendo automatico Minchia Brian La BC E i BC Ah bravo Certo Vai a muzzo Vai Vai Mi serve un mirino Troppo infiudo Questo mi occupa Troppo spazio Nel campo visivo Va bene E possiamo continuare Di qua 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 sopra Venite Stai a terra Stai a terra Non correte Che vi spompate Attenzione Arriba Arriba Io Ma dove sei Con il fatto Che non si può Indicare Oh Eccola qua Mi ha smerdato Porca miseria Se mi liberate Se no Mi spaccano Eccola 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 Attenti Sull'albero Come va Questo non è Il lavoro Di squadra Vai De patto Attenzione Attenzione Un'altra Presa 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 Attenzione Corvi Là sopra Sì Vabbè Prendiamo la scaletta Questa qua Mannaggia Aspetta C'è Brian Ce n'è un'altra Ce n'è un'altra Dock Vuoi dei nuovi pazienti Può capitare Sono ridotto male Il mondo sarebbe migliore Tutto l'ha strecato Attenzione Una mano ferma Aiutasi Devo ricaricare Puzza Che meraviglia Maledizione Puzzi Ricarico Guarda dove spari Grazie doc Attenzione Avvia la Metti in tre Nei in tre Abbiamo Abbiamo Abbiamola Richiede un kit Degli apprezzi Ce l'ho Degli apprezzi Di Degli apprezzi Grazie a tutti. Forse erano nascosti. Forse erano nascosti. Ma che cazzo... Aiuto! Aiuto! Ci sono i corvi. Più avanti ci sono i corvi. Che c'è qua? No, attenzione. Che schifo! Moltene a terra! Di qua! Questo posto non mi piace. Tutto che... Spesso io... Uuuuh! 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 Il mosso di prima. Aspetta, aspetta che arrivo io. Di sicuro? Non è stato un caso. Avrete notato che non appena siamo passati alle autoerente che abbiamo messo le turmine... Le ami sono sbagliate. No! Non voglio non morire. Ma le cose non si sono messe bene per nessuno. Oh, per favore. Mi serve copertura. Minchia, ti ha preso da dentro. Io li sto sparando da dentro. Mi sto nascondendo dietro la macchina. Aspettate che arrivo. Mi aiuti! Non hai niente di meglio da fare. Grazie. Ma Gina è crepata. No, posso attiv... Ok. Oh, cazzo. Aiuto! Perché l'ho... Ho fatto il defibrillatore. Ma non so se ho alzato Gina. Sto perdendo molto sangue. Mi serve... Sono senza munizioni. Che cosa faccio? Devo occuparmi. Aiuto! E' qua! Ma dove sono tutti? In piedi. Grazie. Perfetto. Siamo nei guai. Per sempre un punto debole. Ricarico. Un minuto! Ora... dovrebbero avermi. Sì! Sono quasi a secco! Ricarico! Laggiù. Sì! Arriviva! Aiuto! Ce l'ho qua! Qua dove sono io! Lo sto facendo un cazzo. Ma è morto! Oh! E' due ore, cazzo. Due ore per crepare. è per me. E' qua non dovete... E' ma gli sei partato accanto. Vai. Colpo a corpo, colpo a corpo. Chissà ma tu vuoi proprio morire Ti metti in mezzo agli zombie Ci sono altri corvi Io sono a terra Troppo non ho manco come curarmi Un pezzo di sì Uh i corvi aspetta Eh 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 Boh Da quest'altro lato Sì Fitta va Chiudete quella porta Brian sempre ultimo Quando si deve chiedere la porta La mia ultima bottiglia di whisky La mia ultima bottiglia di whisky Amma mia Amma mia Amma mia Si vede che non avete mai giocato all'F4Devry E questo è l'F4Devry Tale e quale Solo cadono le carte Va beh gli hanno messo le carte Ma sono le 22 e 20 Facciamo altri due tre livelli Dove sono le cose sopra Dove sono le cose sopra? Sì Ho già scappato Ok Ah daaaai Che necce Perchè? Si sentivano le giabattine? Quella dei rom Ah le tute tipo Quelle di Come si chiamava? Il person E' il personaggio di GTA 4 Nico Bellic Ciao Io però volevo giocare Vabbè mi vado Che faccio? O gioco a buff E poi mi continuo il gioco del maestro Forse è il maestro Il gioco del maestro Vabbè Ti te ripiscio va Ciao S5 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 io sento proprio caldo o no? è la mia impressione non fa caldo non so se sono io che non so se sono io che non ho acceso la console non si chiama Death Stranding Death Stranding Secret не so se sono io che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Comunque c'è qualcosa che non va con Twitch. Guarda. C'è qualcosa che non va.